Un pronostico, quattro squadre che possono vincere lo Scudetto? Sì, in teoria quattro squadre, però penso che le più forti siano Trento e Macerata, poi più dietro un gradino più basso, secondo me c'è Cugno e noi di Piacenza, però dobbiamo essere bravi anche a battere le altre che sulla carta vengono considerate più deboli. Comunque sarà un campionato equilibrato, ma vedo favorite queste due, Trento e Macerata. Vincente? Trento.